Il ruolino di marcia è di quelli che lasciano ben sperare in vista dell'esordio in campionato il 6 settembre a Lecce. Certo è calcio d'agosto, ma in estate la Fidelissandria, tra amichevoli e gare ufficiali, non ha mai perso. Anzi, ha trovato, o ritrovato, è il caso di dire, un attaccante sul quale la dirigenza ha puntato molto per la prossima stagione. Francesco Grandolfo è l'uomo copertina, non solo perché è stato il primo acquisto ufficiale della Fidelissandria del presidente Paolo Montemurro, ma perché nelle due gare ufficiali di Coppa Italia è stato capace di realizzare un poker che non sarà riportato a pieno negli almanacchi, anche se resterà nella memoria degli appassionati. Suo era stato il gol vittoria contro il Martina Franca, gara macchiata dalla sconfitta a tavolino per l'utilizzo dello squalificato Onescu. Suoi sono i tre gol che mercoledì pomeriggio hanno piegato l'ischia. La qualificazione è compromessa, ma resta la bellezza di un pomeriggio nel quale Grandolfo ha segnato al volo, con una conclusione dal limite e su assist di Capellini. È l'attaccante sul quale punta il tecnico Luca D'Angelo, alla pari dell'americano di origini bosniac Robert Cristo, l'ultimo arrivato in casa Fidelis in ritardo di preparazione, ma pronto a candidarsi per un posto da titolare all'esordio in campionato. Luca D'Angelo sembra avere le idee chiare sull'assetto tattico della squadra. Strambelli, anche contro l'ischia, si è mosso alle spalle dei due attaccanti suggerendo gioco e cercando soluzioni personali, mentre continuano a destare impressioni positive sulla linea mediana sia Capellini che il giovane Bisoli. I risultati dell'estate insomma fanno volgere sul sereno l'avvio di stagione della Fidelisandria, che domani sera alle 20 in Viale Crispi vivrà la sua presentazione ufficiale.